ciao ragazzi sabato 31 ottobre ci sarà la halloween marathon in home fitness quindi online 4 ride 4 istruttori io e il mio assistente saremo la quarta ride alle ore 18 e la prenotazione è nel seguente modo punto uno scaricare l'applicazione sport club e registrarsi punto 2 cliccare il link che vi metto nelle note di questo video che vi porterà direttamente alla pagina di prenotazione scegliere sul calendario una delle quattro una delle quattro ride seguire le istruzioni per il pagamento ogni ride 4 euro e non c'è il minimo di prenotazioni di due ride quindi anche solo una è prenotabile ci vediamo sabato 31 ottobre a partire dalle ore 14 ciao ragazzi da me e da ettore è tutto a presto per delle ride a paura e tu hai paura ma vedi a paura anche lui ciao ragazzi